Preparatevi a camminare per circa un'ora e mezza. Partenza dal rifugio Vallandro, qui si arriva anche in macchia. Il sentiero per la cima è segnato benissimo, di slivello 300 metri circa, ma senza mai strappare. Scorgere la croce posta in betta, 2307 metri circa, è il segnale. Ce l'abbiamo fatta. La fatica, vi assicuro, è ampiamente ripagata dal paesaggio. Una finestra sulle cime di Lavaredo e l'intero complesso Dolomiti. Grazie. 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 Grazie.